in Svizzera, facciamo il ritiro con Zeman, che noi sapevamo cos'era Zeman, no dal Foggia, e noi eravamo tutti terrorizzati, io ero praticamente traumatizzato, perché io vengo dal paese, dormo a casa, sai, vai a fare il tuo allenamento, torni a casa, vai a Roma, e parti e andiamo in Svizzera, Svizzera 25 giorni di ritiro, mezza giornata libera. Io mi ricordo che durante il ritiro chiamavo la mia povera mamma e dicevo, mamma, senti una cosa, se questo vuol dire giocare in Serie A, io torno a casa, non voglio giocare in Serie A, perché dico, ma per giocare in Serie A bisogna fare 10.000 al giorno, bisogna fare 150 chilometri di ritiro, perché poi parti con 3.000, 3.000, 3.000, poi 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, ma per 4 giorni di fila, ogni programma di lavoro, e dicevo dentro di me, non è per me la Serie A, non è per me il calcio, questo è un allenamento per la maratona, per le corse campestri, non è quello che pensavo.